Un anno fa mi hanno dato questa onoreficenza, la medaglia d'argento al valore Per meriti che riguardano il Ministero della Salute Per me è un onore incredibile, inaspettato Mi è stato consegnato direttamente dal Presidente della Repubblica Quindi io ero lì tutto rosso sudato C'erano tutti indiviso, altissimi, sono andato lì insomma un po' così Però è stata una bella emozione Allora io ho svolto inchieste un po' in tutto il mondo E la maggior parte li svolgo in Italia In Italia, che appunto siamo, in Italia non siamo messi male rispetto a altri paesi Io faccio la maggior parte dei servizi in Italia Quindi tutti pensano, come è messa male l'Italia Non è vero, come legge siamo messi molto bene Ci manca un po' di capacità di farle rispettare Però siamo messi meglio di altri paesi Grazie a tutti Mi piace anche molto realizzare i documentari Io ho iniziato facendo i documentari in televisione Ho fatto per le nation geografiche Sono andato in giro a fare molti documentari per vari canali tematici di Sky E viaggiare mi piace, fa parte della mia vita Penso che anche viaggiare mi abbia fatto innamorare del mondo Con la sua natura e i suoi animali E quindi mi abbia fatto avere questa sensibilità nei confronti, diciamo, della fauna che popola il nostro pianeta E quindi mi abbia fatto innamorare del mondo E quindi mi abbia fatto innamorare del mondo